La sua sinistra Il colore dato dalla luce del sole che è entrato nella grotta riflette la sabbia bianca sul fondale Ciò che aiuta la grotta ad essere così luminosa è anche la roccia bianca all'interno di essa, la roccia calcarea Il sole viene qui e rifletta la sabbia bianca sul fondale Il sole viene qui e rifletta la sabbia bianca sul fondale E questo è il gruppo che ti piace? Ti piace? Sì 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 Soparashì Soparashì Sì Praticamente la rotazione è stata il Ninfeo, la piscina privata dell'imperatore romano Tiberio Tant'è vero che l'imperatore a Capri aveva 12 ville, una delle quali sovrastante la grotta e era consueto a scendere a fare il bagno qui tramite questo funicolo sulla sua sinistra Questo qua era il passaggio dell'imperatore romano Tiberio Non è solo una leggenda, tant'è vero che circa 60 anni fa sul fondale della grotta qui furono ritrovate delle stacole, delle amfole ed altri reperti di origine romana che sono conservati in parte ad Anacapi alla Casa Rosso e in parte al Museo Nazionale di Napoli La grotta azzurra inoltre è la cavità naturale più ampia dell'isola 60 metri lunga per 30 metri larga Il mare è più profondo, circa 20 metri Dove il mare non uccide? Che tira forte il vento, su una vecchia terrazza, l'acqua confusa e su un vento Un uomo abbraccia la ragazza, quello che aveva pianto Un uomo abbraccia la ragazza, quello che aveva pianto Now I need to do one more. I'm going to shoot. Oh, yeah! Sancto, Gio! Osei L'impero dell'Armeni, Sancto, Gio! Grazie a tutti. Grazie.